Ciao grande, ecco che ci addentriamo in una tematica abbastanza ostile come recuperare la password di Instagram se un domani dovessimo perderla oppure non ci ricordassimo la password inserita magari in un determinato periodo di tempo spesso facciamo le cose talmente tanto di fretta che ci dimentichiamo di annotarle oppure ci dimentichiamo proprio di quella che abbiamo digitato al momento non capita solo a te, capita a tutti fidati che le persone non si ricordano spesso quello che fanno, quello che digitano e si dimenticano di scriverlo ti spiego, ti faccio questo video, questa video lezione e ti sembrerà magari banale ma ti garantisco che in tantissimi mi hanno chiesto come recuperare la password con Instagram perché Instagram per farti cambiare la password se non riuscire a entrare ti chiede quella vecchia ma se tu non te la ricordi è lì che si creano problemi quindi andiamo a vedere come si può fare per recuperare una password se entri dal PC e in questo caso è molto meglio che io te lo faccia vedere dal PC perché la grafica è migliore, perché riesci a guardare tutto nei minimi particolari bisogna andare qui su impostazioni, puoi farlo anche direttamente dal tuo dispositivo qui c'è modifica password, però molto spesso sul cellulare devi andare su privacy e sicurezza vedete ti chiede vecchia password, nuova password, conferma nuova password ma se noi abbiamo dimenticato proprio la password è bene che tu ti ricordi l'email che hai inserito in quel momento che hai creato il profilo perché è attraverso l'email che noi andremo a ricercare la nostra password dimenticata quindi io in questo momento la password me la ricordo però ci sono determinate situazioni in cui se non ti ricordi l'email è possibile accedere attraverso il numero di telefono e quello che ho fatto quando una mia studentessa ha smarito la password non riusciva ad entrare, quindi lei mi ha praticamente dato le sue credenziali quindi il suo account, la sua email e io attraverso il suo numero di cellulare sono riuscita a farle arrivare dei messaggi e quindi a riaccedere e a reimpostare una password nuova quindi se posso darti un consiglio accedi sempre attraverso il numero di cellulare quindi laddove Instagram, e questo te lo dico io per motivi di sicurezza, per te stesso laddove Instagram ti dice aggiungi il numero di telefono, ti garantisco fallo fallo perché è una sicurezza in più per te se un domani dovessi perdere la password e magari la tua email non è più attiva ma hai il numero di cellulare, allora potrai recuperare il tuo account attraverso questa semplicissima procedura ti chiederà di aggiungere il numero e una volta che tu avrai aggiunto quel numero riuscirai ad ottenere un codice di sicurezza che Instagram ti manderà per messaggio e da lì riuscirai ad accedere e a immettere una nuova password ed ecco che ti ritrovi di nuovo sul tuo account quindi se un domani dovessi davvero smarrire la password ti garantisco che potrai accedere a questo videocorso perché sarà sempre online a questo videocorso e ricercare proprio questo modulo dove ti guiderò passo passo nel recupero delle credenziali ma ricorda, per tua sicurezza personale aggiungi il numero di telefono una volta fatto questo le credenziali sarai capace di ritrovarle ecco potrà anche succederti che Instagram potrebbe mandarti un messaggio per dirti hai provato un innumerevole tipo non lo so cos'è che può scriverti può scriverti magari hai provato troppe volte quindi in automatico adesso devi aspettare un po' di tempo io ti garantisco che in 12 ore di solito puoi ritentare puoi fare di nuovo un tentativo l'ultima volta che ho provato dopo che questa mia studentessa aveva provato a inserire le credenziali ma non era riuscita io ho aspettato 12 ore poi ho fatto un tentativo uno attraverso il suo numero di telefono attraverso il suo account e sono riuscita benissimo quindi non preoccuparti non entrare nel panico se mai se dovessi aver problemi scrivimi un'email e cercherò di aiutarti personalmente a ritrovare le tue credenziali questo te lo garantisco quindi non avere assolutamente problemi prima prova se dopo 12 ore non sei riuscito a recuperare la password mi mandi un messaggino su whatsapp e riuscirai con il mio aiuto a recuperare questa email quindi senza problemi non entrare nel panico e vedrai che ce la farai con questo ho terminato anche questo video quindi ci vediamo al prossimo dove parleremo di come salvare gli elementi che preferisci su Instagram quando vedi una foto quando vedi un video se vuoi salvarlo ti farò vedere come metterlo tra i preferiti per questo ci vediamo alla prossima lezione ciao ciao